La parzelletta di Geppo In un appartamento c'è una coppia che si sta veramente quasi ammassando Stanno discutendo da più di un'ora E c'è sta lei che strilla, strilla e parla, 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 parla a continuazione A un certo punto, mentre lei sta proprio all'apice dell'arrabbiatura Guarda il marito e gli fa così Potresti smettere di sbadigliare mentre ti sto parlando? E il marito sta guardando e fa E non sto sbadigliando, sto cercando di qualcosa La scelta dei gladiatori di dimensione suona Roma